La ZTL resta. La terza sezione del TAR rigetta l'istanza cautelare di sospensiva della zona a traffico limitato presentato da oltre 400 ricorrenti tra commercianti, associazioni e cittadini e conferma il provvedimento anti-inquinamento uscente da Palazzo delle Aquile. Un lungo tiro e molla è andato avanti per circa un anno, da quando la prima versione della ZTL venne dichiarata subito illogica e senza garanzie dallo stesso TAR che aveva deciso di sospenderla. Così l'amministrazione Orlando ha rivisto il provvedimento, riducendolo a centro storico e rimodulando le tariffe e questa volta ha vinto. Secondo i giudici amministrativi, infatti, il Comune avrebbe garantito un adeguato numero di mezzi pubblici all'interno del perimetro off-limits, diverse le proteste e le manifestazioni che negli ultimi mesi hanno interessato Piazza Pretoria, con folle di commercianti che hanno denunciato il calo, se non la scomparsa, delle proprie attività. Una buona notizia per la salute dei palermitani, ha commentato l'assessore comunale alla mobilità Giusto Catania, che difende a spada tratta la bontà del provvedimento. I dati rilevati a quasi due mesi dall'entrata in vigore della ZTL dimostrerebbero infatti un calo, sia dentro che al confine del perimetro, dei livelli di inquinamento, confermando i conseguenti effetti positivi sull'ambiente.